un buon ritrovamento ora questi sono ciclosibe cilindracia ex agrosibe gerica comunemente chiamato pioppino è uno dei migliori funghi che possiamo rinvenire sul territorio italiano a mio avviso guardate che spettacolo non sono molti però calcolando che non piove da più di 20 giorni quante ne sono 20 giorni non piove si pure di piume sa eravamo a farci un giro a prugnoli ma il prugnolo non esce con la guazza notturna diciamo questo ce l'ha fatta uscire che abbiamo trovati anche su questa è una pianta di acero guarda la pianta acero ptusatom l'acero montano sarebbe noi siamo sui monti lucreti lo troviamo sia su acero ptusatom che su pioppo sulla cercampestris anche lo chiamamo un più dalle parti nostre guardate molti li confondono con le famigliole con l'armillaria mellea ma non ha niente a che fare sia per la commestibilità che per la bontà ricordiamo armillaria mellea è commestibile soltanto dopo 20 minuti di prebollitura almeno 20 minuti e poi può essere ripassato come volete questi sono uno spettacolo sono buonissimi questi uno dei miei cinque funghi preferiti e basta sono finiti come vediamo se troviamo qualche pugnolo ciao